Il momento segretà, il momento segretà, questo è il momento segretà. Ne parliamo con un ricercatore di tecnologie alternative, d'altronde lui è pure istruttore italiano del metodo Wim Hof, il professor Alessandro Ronca. Io la chiamo professore perché questa è la sedia del professore. Professore, allora... Ne sono lieto. Io ho sperimentato anche questo metodo perché quando eravamo in pandemia, durante la pandemia, in lockdown, ho guardato un documentario e piano piano mi sono esposto a temperature sempre minori, facendo la doccia al mattino. E ti devo dire che ho anche tratto dei benefici perché non è semplice, però la mia domanda è, adesso vedendo la foto di Wim Hof, fino a che punto si può resistere al freddo? Il record del mondo che appartiene a Wim Hof è di 1 ora e 53 minuti nel ghiaccio senza morire. Quindi diciamo... Un'ora e 53 minuti. Esatto. Ma lo sai che l'ho fatto pure io? Mi sono trovato benissimo. Le docce fredde. Mi sono trovato un amore. Mi sono trovato benissimo. Guarda, tu dovresti fare il bagno in un altro tipo di acqua per vedere se... L'urdo, all'urdo, all'urdo. Esatto, 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 esatto. Quindi, e lei da quanto tempo pratica questo... Io da 5 anni. ... questo metodo? E allora di più di quello là, quello un'ora e mezza. No, 5 anni non... Allora è lei che ha messo il record. Esatto. Gamon, tra l'altro, deve sapere che oltre ad essere un musicista è anche un maratoneta. Tu corri per passione o per riscaldarti? Fai il contrario di Wim Hof. No, 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 corro per passione, però effettivamente magari solamente un parallelo è ovvio che sono più abituato al freddo adesso rispetto a prima di correre perché magari uscendo la mattina molto presto ormai 3 gradi, 4 gradi non mi fanno più effetto come mi potevano far prima. Anche perché adesso col caro bollette bisogna abituarsi alle temperature più fredde e il professore Alessandro Ronca ha scritto questo libro che è Vivere senza bollette e stasera io, ce l'abbiamo anche nell'Edual analogico, Guardate, la copertina. Vivere senza bollette e noi che siamo la RAE, siamo il servizio pubblico, questa sera vi vogliamo dare un po' di consigli su come risparmiare sulle bollette perché è un problema molto importante di questi tempi. Allora cominciamo dalla luce, dall'elettricità. Ci dia un consiglio pratico per risparmiare sulle bollette? Allora intanto è sapere quanto stiamo consumando perché anticamente avevamo questo contatore che veniva espresso e che tra parentesi ti ho portato anche a far vedere. Vediamo, vediamo, questo è il vecchio contatore, a casa di nonna c'era sempre, era di fianco alla porta d'ingresso. Adesso sono cambiati, sono digitali. Purtroppo, per certi versi, perché a fianco alla porta dell'ingresso aveva questa rotella e questo vetro trasparente dove questa rotella girava in maniera vigorosa man mano che si aumentava il consumo. E quindi noi avevamo la percezione del consumo. La nonna soprattutto partiva con il lancio della ciabatta appena c'era qualcuno che ci dava un po' troppo dentro e questo aveva un effetto molto significativo. E questa cosa con la modernità, con tante cose, spesso qui mi pare che si parla di analogicità e quindi secondo me è assolutamente in tema, nel senso che spesso e volentieri il fatto di non vedere ci porta a consumare. E il contatore l'hanno sistemato fuori dalla nostra casa, lontano dai nostri occhi. È un po' come se l'indicatore della benzina della tua macchina lo montassero nel portabagagli. Io ho portato qui un piccolo display che è una modifica che può essere fatta in tutte le case con un investimento bassissimo e che riporta il contatore con la rotella davanti ai nostri occhi. Quindi noi abbiamo sempre il consumo sott'occhio. Quindi avendo sott'occhio questo elemento che in qualche maniera ci dobbiamo per forza avere, portiamo una riduzione che va dal 15 al 20% senza cambiare. Solo sapendo quanto stiamo consumando. Solo sapendo questa cosa. Questo è un ottimo consiglio, molto utile.